ciao ragazzi oggi vi mostro un microscopio usb che mi è stato inviato da jrbest si tratta del modello hot ht 80 se siete interessati come sempre trovate il link in descrizione nella confezione vi viene fornito un righello trasparente un adattatore otg per poterlo collegare a cellulari e tablet e un supporto in alluminio tutto sommato carino sostanzialmente si tratta di una webcam da 5 megapixel quindi una risoluzione da 2500 per circa con un ingrandimento dichiarato di 500 per anche una luce regolabile e sostanzialmente webcam con collegato uno zoom ottico il massimo ingrandimento lo avete a una distanza di 4 centimetri mentre il minimo ingrandimento lo avete a 50 centimetri devo dire che funziona funziona bene la qualità dell'immagine molto buona l'unico difetto che ho trovato è che quando muovete qua per fare la messa a fuoco si muove leggermente leggermente la lente ma non crea minimamente fastidio cioè vi si muove leggermente l'immagine ma poi la messa a fuoco finale la si fa anche muovendo questo non so se è un problema solo di questo ora a seguire vi mostro un po di riprese per l'utilizzo funziona con qualsiasi programma di webcam per cui lo attaccate su android aprite un programma di webcam e funziona stessa cosa su pc a seguire vi mostro un po di immagini di riprese di ingrandimento considerate che la qualità visiva che avete dal vivo è nettamente superiore a quella che vedrete nel video perché la qualità di registrazione dipende dal programma utilizzato il programma per webcam fa una alta compressione per cui degrada un po la qualità dell'immagine per questo video è tutto ciao ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.